Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua in un nuovo video glitch dove vi andrò a mostrare un trucco super super potente per guadagnare tantissima, tantissime esperienze quindi ragazzi tantissimi XP su Fortnite Come prima cosa ragazzi andiamo qui su codici in isola e mettete questo codice qua Questo qua è il codice ragazzi, io vi ricordo di andare a mettere la versione 10, mi raccomando e poi mettete su invio e ragazzi premiamo su gioca, let's go Ragazzi mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante Più giorni o almeno più tempo rimarrete senza farmare esperienza nei giorni precedenti e più questo glitch sarà efficace, a me per esempio non ne ha date molti essendo che ieri comunque ho giocato a Fortnite e ho farmato o almeno ho fatto un po' di esperienza facendo un po' di partite Quindi ragazzi il mio consiglio è di magari un giorno cercare di fare un po' creativa senza fare tanta esperienza e il giorno dopo ragazzi usare questo glitch perché sarà fantastico Voi comunque provateci lo stesso perché ragazzi non si sa mai Magari vi capita l'80.000 raga e bomba, bomba raga Dito questo ragazzi vi lascio al video, ciao! Perfetto ragazzi, ora l'unica cosa che bisogna fare è aspettare gli 80 secondi e nel mentre siete qui a che state aspettando io vi ringrazierai tantissimo se andreste a premere il supporto al creatore andreste a mettere il mio codice supporta un creatore Davide Dominati Vi ringrazierai a tutti ragazzi, veramente un supporto enorme Perfetto ragazzi, abbiamo startato la partita, almeno si è startata Prima cosa che dovete fare è andare sopra qui, saltare e troverete questo rift Poi, ricordate questa casa che era sopra l'isola di, o io ragazzi, dell'Easy Lake questa qui era l'isola sopra l'Easy Lake Andate qua dentro nella caverna, quindi nel sotterraneo andate a colpire questo uovo qui raga Un bel colpetto per iniziare a guagnare un po' di esperienza gratuita Però ragazzi, colpaccio arriva adesso Ritornate qua sopra Ok, rientrate dentro il rift E in questo caso raga, l'unico che dovete fare Ecco, ho sbagliato, mannaggia Ok ragazzi, non dovevo andare nella caverna Dovevo andare qui, come potete vedere Nella, nel davanti, nell'entrata della casa Andate qui ragazzi Andate qui in questo quadro XP glitch Andate a premerlo raga Magicamente gli XP inizieranno a duplicarsi sempre di più ragazzi Un glitch AFK super, super potente Guardate quanti ce ne sta dando in pochissimo tempo raga Veramente tanta, tanta roba Detto questo ragazzi Se volete fare XP gratuiti Questo qui è il glitch giusto Quindi mi raccomando Lasciate un bel like 50 like per il prossimo video di XP Beh, che dirvi raga Da te, da me è tutto Bella raga Ciao Ciao